Buonasera, benvenuti a questa puntata dell'analisi. Due parole di introduzione perché questa storia le merita di certo. Olbia non è il tempio della cultura e chi ci abita lo sa molto bene. Capita anche però che chi prova a darsi da fare per rivitalizzare la scena culturale si trovi di fronte ostacoli importanti, in qualche caso insormontabili. Quella che raccontiamo oggi è una storia strana, è la storia dell'edificio che tra poco vi faremo vedere, un vecchio deposito portuale inutilizzato e diroccato che è stato risanato e ristrutturato e che per qualche anno è diventato sede di mostre, fiere di Natale, presentazioni di libri, spettacoli culturali, concerti eccetera. In poco tempo insomma è diventato un vero e proprio punto di riferimento, una tappa della classica passeggiata in centro. Da ieri quello spazio che la regia può proporre non esiste più, è stato svuotato e riconsegnato all'autorità portuale che ne è di fatto la legittima proprietaria. Il perché sia successo tutto ciò e possiamo tornare in studio. Lo capiamo o cerchiamo di capirlo insieme a Cristina Martina, architetto, la donna che ha inventato gli eventi al Monobrim. Benvenuta. Salve. Allora andiamo per gradi, tutto parte quattro anni fa circa, lei decide di portare a Olbia una mostra importante, quella sulle macchine di Leonardo da Vinci e chiede al comune di Olbia uno spazio per accogliere questa mostra. Si pensa all'expo e al museo, viene scelto quest'ultimo, il museo, salvo poi scoprire all'ultimo momento che non si può fare la bigliettazione, quindi sono dei problemi ovviamente di carattere economico. Come nasce a quel punto lì l'idea del vecchio deposito portuale? Beh, nasce per caso, nel senso che io non mi sono svegliato una mattina, me l'hanno chiesto molti come mai, sei andata a finire lì a ristrutturare questi spazi. È stata quasi una necessità, è stata un'esigenza, un risolvere il problema all'ultimo momento, perché a me servivano circa 300 metri quadri, 300-350 metri quadri, quindi una location già abbastanza consistente. Parlo di questo giustamente al sindaco, propongo questo progetto, è una mostra a livello mondiale e mi viene detto che avrei potuto eventualmente usare quindi il museo archeologico. Come metratura più o meno ci stavamo e quindi va bene. Io a distanza circa di un mese, manca un mese, 15 giorni all'evento, le macchine sono pronte per partire, tutto imballato, eccetera. Mi reco in comune per consegnare gli ultimi documenti, stabilire le ultime cose, eccetera. Mi viene comunicato che c'è una clausola nello statuto, di questo statuto, di questo museo archeologico, dove appunto vietano la bigliettazione. Lei mi ha raccontato che il deposito del Molobrini è un idea di suo marito, è vero? Sì, sì, beh, io ripeto, mai avrei potuto pensare a ristrutturare, io mi sono vista cadere il mondo addosso perché mancava talmente poco e non sapevo cosa dire all'associazione il genio di Leonardo da Vinci perché giustamente io mi ero prenotata due anni prima la mostra Olbia. Quindi è stata un'idea di mio marito che a questo punto con l'acqua alla gola abbiamo detto ma dove troviamo uno spazio adesso che ci possa accogliere tutta questa roba che sta arrivando da Firenze, una mostra così importante? E mio marito giustamente propose al sindaco. Cosa ne dici Gianni se ristrutturiamo almeno le prime due sale, le rinfreschiamo, vediamo come lo possiamo fare? Degli ex magazzini portuali, io ho mai entrata, sempre visto da fuori, per cui non ne conoscevo. Nessuno ci aveva mai pensato a questo. Beh, era lì da 24 anni, voglio dire, quindi nessuno ci aveva mai pensato. Il Comune dice sì, ma quale rapporto a questo punto si instaura per la gestione? C'è qualcosa di scritto? Allora, con Martina Cristina diciamo che non esiste tutt'oggi uno scritto dove il Comune abbia delegato quello che può essere, non lo so, un incarico di gestione, di manutenzione, di... questo nella realtà è stato fatto, perché insomma giornali, televisioni, tutti sapete benissimo che l'architetto Martina Cristina ha ristrutturato, gestito e ha più che altro, diciamo, la cosa per me che conta di più. Io sono riuscita a dare un'anima a quel magazzino, a quel rudere che era un tempo e di questo ne sono veramente fiera, non è la rinfrescata, la ristrutturazione, quanto l'aver fatto poi funzionare, perché poi Leonardo va via dopo due anni e quindi visto che poi bene o male era stato fatto un investimento da parte mia, a questo punto ho detto finché l'autority portuale ce lo lascia, visto che lo stiamo usando per la città, perché non era per un uso personale, io do vita al comitato promotore eventi al Molo Brin e quindi di conseguenza sforniamo eventi, voi ci avete seguito da sempre, per tutto l'anno garantendo un servizio culturale, artistico, presentazione di libri, quindi letterario e quant'altro. Il sindaco dice che lei ha lavorato come volontaria insomma su questa... Beh no, io non lo chiamerei volontariato, diciamo che i magazzini nascono proprio da una necessità, perché non... essendomi stata promessa una location e poi alla fine mi vengono a dire che non si può perché non c'è la... o meglio, cioè se vuoi non bigliettare noi te la diamo. Una mostra che costa circa 110 mila euro, perché spostamenti, l'associazione vive di queste situazioni che vanno semestralmente e hanno un costo, quindi io che avevo pensato di tenerla più o meno dagli otto mesi in poi per coinvolgere le scuole e quant'altro, il costo della mostra era circa quello, quindi se io non facevo la bigliettazione da dove li tiravo fuori questi soldi. Allora ho chiesto, allora ho detto va bene, allora datemi un contributo, perché io la mostra la devo pagare, figuriamoci, io ho contributi, non ne ho avuti, se non diciamo era la location gratuita, in questo caso la mostra del... di terracotta dell'imperatore Chin all'Expo e il Museo archeologico per la mostra di Leonardo. Siccome non è stata così, ci siamo ingegnati, ma perché non potevamo permetterci il lusso di far ritornare indietro la mostra che era già impacchiettata per noi. Ok, comunque lei tiene in gestione questo locale, funziona così in sostanza, è il locale dell'autorità portuale, ma il Comune paga un affitto? Sì, viene chiesto un canone. 6-7 mila euro circa? No, 6 mila euro, 6 mila e 2, 6 mila e 3, 6 mila e 4, una cosa del genere, per i primi due anni, che sono poi stati gli unici anni che io ho scoperto poi quest'estate, perché io giustamente non mi preoccupavo se il Comune pagasse o non pagasse, noi eravamo là, ogni anno si rinnovava la richiesta, perché credo che sia anche una cosa a livello proprio legale che l'autorità portuale possa dare annualmente la struttura, per cui il Comune annualmente ne rifaceva richiesta. E lei sa perché il Comune ha smesso di pagare negli ultimi due anni? Io ho dovuto chiedere informazioni, perché nel momento in cui l'autorità portuale mi chiama quest'estate, quindi l'estate scorsa, mi chiama per chiedere come mai il Comune non sta pagando e come mai io continuo a fare 20 senza che addirittura il Comune ne abbia fatto richiesta nel 2012? Potete immaginare io, mi sono sentita cadere un secchio d'acqua fredda addosso, ho detto come il Sindaco non ne ha fatto richiesta, ma se era la settimana scorsa a tagliare il nastro il 19 di luglio, mi è venuto spontaneo rispondere così, vi state sbagliando? E invece, giustamente, io sono uscita dall'autorità portuale, come mi hanno detto tutti con il cervello in fiamme, sono andata in Comune a chiedere al Sindaco se era vero tutto ciò. Ed era vero, era vero. Quanto ha investito per mettere a norma e rendere agibile quella vecchia palazzina? Io sono partita sui 50-60 mila euro all'inizio perché ho solo preso le due sale, questo concordandolo con l'Associazione e promettendo loro che con la bigliettazione, se fossi stata così brava a fare tutto un lavoro di le scuole, i turisti, eccetera, io poi li avrei liquidati piano piano. Così è stato, nel senso che il primo anno noi abbiamo speso tra i 50 e i 60, comunque ci sono fatture, c'è tutto, sono tutti dati dimostrabili, abbiamo speso quella cifra. Poi chiedendo sempre annualmente l'uso, visto che ormai era stato fatto un investimento iniziale, visto che c'era risposta da parte della città, perché in qualunque evento, io ho sempre avuto dalle 500-600 persone, che fosse il mercatino di Natale, che fosse la mostra degli artisti, che fosse il salotto degli artisti, che fosse sotto le ali di Leonardo, tutti eventi dove hanno partecipato davvero tantissime persone, talenti, un percorso del gusto, promozione del territorio. Alla fine poi, tutto sommato, questa location occupa un posto geografico importantissimo, io credo di questo se ne siano accorti tutti, forse proprio per questo che adesso ci troviamo in queste condizioni, perché io penso che faccia gola a molte persone e quindi di conseguenza molte persone dimenticano che è stato lì per 24 anni, senza che nessuno si facesse venire delle idee e con un atto di coraggio si facesse carico di una spesa iniziale. Senta, sappiamo tutti che il comune di Olbia, insieme agli altri comuni italiani, ha un problema di impatto di stabilità e quindi le spese sono un po' difficoltose, ma alcune indiscrezioni forse è il caso di renderle notte. Sembra che i commercianti del centro storico di Olbia non vedessero di buon occhio questa sua attività, concorrenza, rivalità. Ha mai percepito un clima poco favorevole nei confronti di ciò che faceva? Io più che percepito mi è stato proprio detto, cioè nel momento in cui sono andata a chiedere spiegazioni al sindaco e come mai, non voleva più pagare, non poteva, non voleva, quali erano i motivi? Dal sindaco mi è stato detto uno, perché non aveva più quella cifra a disposizione e due, perché questa mia presenza lì creava un po' il malcontento dei commercianti. Queste sono parole che mi sono state riferite e io ho chiesto ma come mai, in che senso, perché, cosa faccio? Io gli eventi che faccio sono anche dedicati ai commercianti, nel senso che per esempio il mercatino di Natale, cioè io non sono un commerciante, quindi io ho fatto in modo che organizzando l'evento del mercatino di Natale ognuno si potesse iscrivere. Quindi io ho iniziato a comunicarlo sul giornale due mesi prima, chiunque volesse partecipare, dei commercianti, anche degli obbisti, quindi obbisti, commercianti, eccetera, fra poco si aprirà il mercatino di Natale come l'anno precedente. Per cui voglio dire, io dal corso non ho avuto nessuno che è venuto a presentarsi, quindi è un problema loro, non mio, perché io ho offerto movimento alla città, ho dato vita in un mese morto che è novembre, tutti lo sappiamo, dove i negozi le domeniche sono chiusi, c'è un momento di crisi, quindi la presenza del mercatino per me è stato un momento davvero, ho cercato di dare un motivo di, anche un brio, cioè la gente mi diceva, Cristina non chiudere, resta aperta anche dopo l'otto dell'Immacolata, infatti ho chiesto la proroga, perché grazie a te poi la gente va al corso, perché non va nei grandi magazzini, viene da te, poi si fa anche la passeggiata al corso, quindi mi dispiace che proprio loro non l'abbiano capito. Che cosa ha la più delusa in tutta questa storia, o chi la più delusa? Ma la delusione, chi non lo so, perché voglio dire, io non sono qui adesso a dire se ha più colpa il comune, se ha colpa l'autorità di Portuale, questa io proprio ero al di fuori delle cose, io ero tranquilla che la loro situazione se la gestissero da loro, io più che sfornare idee, impacchettare eventi, lavorare anche fino a mezzanotte l'una alle due nell'interno del molo e garantire la continuità degli eventi in tutti i 12 mesi dell'anno per il bene della città, per il territorio gallura intero, non soltanto per Olbia, quindi la storia dei comuni, infatti mi permetto di dire che nel momento in cui il sindaco mi ha detto che non riusciva più a pagare l'affitto dei 7 mila euro, io mi sono ingegnata come al solito a cercare di coinvolgere sette comuni della gallura, perché mi sono detta se riesco a far associare sette comuni, visto l'esperienza dell'estate, dove ce n'erano tre, c'era Berchida, Calangianus e Budusò, se lo allargo a sette comuni, mille euro a testa è una cosa talmente indolore, però hanno una vetrina, facciamo promozione del territorio e quindi è una cosa bellissima. Ma è stato risposto di no, Olbia non... No, in primo momento il sindaco mi ha detto che non avrebbe neanche partecipato in questa versione, con questa possibilità, sperando invece io che essendo il comune ospitante, Olbia facesse almeno il capofila, no? Perché su un'associazione di sette comuni poi c'è un comune che di solito si prende la responsabilità di rappresentare tutti. Io speravo che fosse Olbia, invece mi è stato detto che non l'avrebbe fatto perché c'era questa situazione dei comuni che gli soffiava sul collo. Io sinceramente ancora adesso non lo capisco, devo dire la verità, quindi la delusione per me qual è? Per carità, forse la cosa andava gestita meglio dall'inizio, nel senso ma non con me, tra di loro istituzioni, cioè io ho solo dato, cioè io cosa posso dire? Io ho dato da quattro anni a questa parte solo per aver avuto quest'idea, investito e curarla con amore, con passione, visto che poi ha funzionato e quindi questa cosa l'ho capita facendo dei sondaggi, eccetera, ho capito quello che la gente voleva e siamo andati in quella direzione. Ho pochissimi secondi ma volevo chiederle questo, adesso questa struttura andrà a bando per chi vorrà gestire, lei ha annunciato che non parteciperà a questo bando, tutto sommato però se questo le dà più che una stretta di mano come garanzia, come mai dice di no? A me dispiace molto dover dire una cosa del genere perché forse a volte parlo anche un po' con la rabbia che ancora ho dentro, però guardo anche la parte pratica. Allora io adesso per smontare tutto quello che c'era fino a sabato scorso con un evento così importante con Amy Stewart e Paolo Fresu dove veramente il molo si è, mi dicevano tutti i complimenti Cristina, sembra di stare a Milano e non a Olbia, ma questo in senso positivo, non perché vogliamo, quindi è stata veramente una serata di un'eleganza, di un'importanza e di una proprio di un livello altissimo per portare via tutto. Io ho smontato un impianto elettrico che all'epoca mi è costato circa 25 mila euro, ma quando io parlo di un investimento di 130 mila euro, alla fine è un investimento che ho potuto fare io in quanto ho un'impresa di costruzione, in quanto sono un architetto, se io avessi dovuto commissionare non l'avrei neanche fatto perché avrei speso almeno 250 mila euro e sinceramente non me la sarei sentita. Quindi lei dice non mi conviene più. Io come faccio adesso? Fra otto mesi vado a bando, nove mesi, un anno, quello che è, vado a rimontare tutto da capo? Cioè vado a spendere altri 40, 50, 60 mila euro per che cosa? Per essere stata così considerata e ringraziata? Cioè io la cosa che mi dispiace veramente tanto è il fatto che proprio abbiano mancato di rispetto nei miei confronti, perché io rispetto per me, io rispetto la persona più umile della terra perché mi sembra doveroso che l'essere umano, chi se lo merita, meriti rispetto. Dobbiamo chiudere qui Cristina Martini. Quindi solo questo è il mio dolore, nient'altro, mancanza di rispetto. In bocca al lupo, grazie per aver partecipato all'analisi. Grazie a te, grazie. Grazie ai nostri telespettatori e a risentirci domani con una nuova puntata. Buona serata. Grazie a te, grazie a te.